All'alto campo il Marina di Ragusa ospiterà domani alle ore 15 il città di Scordia per la ventunesima giornata del campionato d'eccellenza Girone B. Il Marina, reduce dal pareggio a Paternò, ha bisogno di una vittoria per mantenere il primo posto in classifica. Riposa invece il Santa Croce che avrà così più tempo per preparare il prossimo impegno casalingo contro il Camaro. La squadra di Mister Lucenti ha attraverso un ottimo stato di forma e infatti la squadra con il maggior numero di punti nel Girone di ritorno. Nel campionato di promozione Girone D la capolista Ragusa sarà ospite dello Sporting Obea e vorrà riscattarsi dopo il precedente pareggio. Il New Pozzaldo difenderà la posizione playoff in casa nello scontro diretto con il Cartagirone. Il Modica sarà protagonista dell'anticipo di oggi in trasferta con il Don Bosco. Il Frigintini domani giocherà a Denna contro la seconda della classe. Nel Girone F del campionato di prima categoria il Città di Comiso sarà di scena durante l'anticipo del sabato, ospite del Pro Ragusa, mentre il Chiaramonte giocherà in casa contro il Canicattini nel match della domenica pomeriggio.